Giugno è il mese del Sacro Cuore di Gesù Studiate molto nel Cuore Sacratissimo di Gesù, a quella scuola imparate ad essere mansueti ed umili di cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù Cuore Divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Quanta consolazione possiamo provare se pensiamo che siamo infinitamente amati dal Cuore del Dio Salvatore, che in ogni momento è pronto ad ascoltare le nostre suppliche, che in ogni istante prega per noi e che ci invita ad andare da Lui a riposare sul Suo Cuore. Venite a me voi tutti, che siete stanchi ed oppressi, ed io vi farò riposare. Apriamo dunque il cuore alla confidenza e alla fiducia, poiché non c'è un bene e una gioia più grande che abitare in questo cuore. Questa stupenda devozione deve servire a farci conoscere e amare Gesù, a svelarci i misteri della Sua misericordia, i sentimenti di amore che nutre per ciascuno di noi. Non può e non deve essere un privilegio esclusivo di alcune anime pie, in quanto tutti siamo stati redenti dal Suo sangue e colmati dai Suoi benefici. Per tutti noi quel cuore fu aperto sulla croce. Tutti noi lo abbiamo ferito con i nostri peccati. Tutti siamo l'oggetto della Sua carità e delle Sue attenzioni, ed è per questo che dobbiamo essergli fervidamente devoti e riconoscenti. Il cuore sacratissimo di Gesù ha infiniti scrigni, nei quali tiene riposti i Suoi tesori, e questi scrigni si aprono con una sola e medesima chiave che ciascuno di noi ha in mano, la preghiera. 1 giugno Per Maria a Gesù Dopo Maria, Gesù Ed ecco il caro mese del Sacro Cuore a cui la Madonna Santa ci ha dischiusi in maggio mentre noi le abbiamo detto di insegnarci le vie del vero amore. Uniamoci in questo mese ai palpiti di amore con cui la Madonna amò, il Sacro Cuore, fin da quando Gesù venne ad abitare nel suo seno virginale e con cui continuo ad amarlo per l'eternità. O Madre Celeste Buona, presenta a Gesù il nostro piccolo cuore, purificato e santificato dal tuo amore. Noi, piccole creature, vogliamo prendere il tuo amore immenso per Gesù e in questo mese moltiplicarlo ancora, se fosse possibile. Tante volte, quanti granelli di sabbia sono in riva al mare, quanti pensieri sono in tutte le menti. Mettici tra le fiamme del Sacro Cuore, o Madonna. Facci entrare nella sua ferita. Facci perdere in Lui. Atto di virtù Porterò con me l'immagine di Gesù e con affetto dirò Dolce Cuore di Gesù, guidami tu. Dentro il Cuore di Gesù formiamo la nostra abitazione per non uscire mai più. Mettiamo tutte le nostre pene, miserie e debolezze in quella fornace d'amore che certo, tutto resterà consumato da quel Sacro Fuoco e noi potremo cominciare una vita tutta nuova e tutta santa. Adesso nasconditi dentro il Santissimo Cuore di Gesù e amalo sempre di più. Oh, quanto bisogno abbiamo tutti di nasconderci nel Dolcissimo Cuore di Gesù in questi infelicissimi tempi. Amen. Coroncina al Sacro Cuore di Gesù Oh mio Gesù che avete detto in verità vi dico chiedete ed otterrete cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto ecco che io picchio io cerco io chiedo la grazia formuliamo qui la grazia che vogliamo chiedere a Gesù Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Sacro cuore di Gesù confido e spero in voi O mio Gesù che avete detto in verità vi dico qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome Egli ve la concederà ecco che al Padre vostro nel vostro nome io chiedo la grazia formuliamo qui la grazia che vogliamo chiedere Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Sacro cuore di Gesù confido e spero in voi O mio Gesù che avete detto in verità vi dico passeranno il cielo e la terra ma le mie parole mai Ecco che appoggiate all'infallibilità delle vostre sante parole io chiedo la grazia Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Sacro Cuore di Gesù confido e spero in voi O Sacro Cuore di Gesù cui è impossibile non avere compassione degli infelici abbiate pietà di noi miseri peccatori ed accordateci le grazie che vi domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria vostra e nostra tenera Madre San Giuseppe Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù pregate per noi Salve Regina Madre di Misericordia vita, dolcezza, speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuri figli di Eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque bocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del seno tuo o clemente o pia o dolce vergine Maria che Dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen l'incensiere d'oro vi saluta vi da appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere io pregherò per voi grazie